Ciao a tutti ragazzi, come state? Vi ricordate mica di questo posto? Ma dai Dario, come fanno a non ricordarsi? Questa è l'entrata dell'oratorio! Come ben sapete quest'anno è stato un po' particolare, sia per noi animatori che per voi animati. Tutto è cominciato da qui, con la nostra super castagnata. Marta, ti ricordi quanto ci siamo divertiti? Come dimenticarlo e come dimenticarci di tutti i giochi che abbiamo fatto insieme? E poi mi sono piaciute soprattutto le partite a calcio giocate con gli amici dopo merenda. Ed è stato anche molto bello riunirci tutti insieme qui per giocare a Tombola. Mamma mia, è vero, io ho vinto un sacco di regali, come questa sciarpa che aveva usato la gita sulla neve a Duseggio. Però che freddo che faceva, io ho preferito sinceramente vestirmi da mister incredibile e mangiare tante di quelle bugie a carnevale. Sì, ma quanti coriandoli, ce li avevo anche nelle mutande. Questa purtroppo però è stata l'ultima occasione in cui ci siamo potuti vedere tutti insieme. Hai ragione, però non ci siamo lasciati abbattere, abbiamo continuato anche a distanza. Nelle ultime 12 domeniche abbiamo fatto uscire sui nostri social dei video come questo, in cui proponevamo delle attività per sentirci vicini. Abbiamo anche fatto un weekend ecologico con i nostri amici scout. È vero, io per l'occasione ho anche realizzato un annaffiatoio con una bottiglietta riciclata. Tutto sommato allora ci siamo divertiti, nonostante le varie difficoltà del periodo. E se siamo riusciti a gestire al meglio la situazione è stato solo grazie agli insegnamenti di Cami. È vero, noi animatori più vecchi, volevo dire più grandi, abbiamo fatto un ottimo lavoro con i giovani, ma non dimentichiamoci dell'immenso sostegno che ci hanno dato i donne. A noi ha fatto molto piacere aiutarvi e sopportarvi, siete stati davvero una bella scoperta. Speriamo di rivedervi al più presto, intanto vi auguriamo una buona domenica. Grazie a tutti.